Mi è arrivata più di una volta la stessa richiesta, dovrei andare a lavorare in giro certe volte dove non so se ho internet o solo una scrivania e una sedia, cosa devo portarmi appresso per poter lavorare in tranquillità senza dover perdere troppo tempo in configurazioni e installazioni? E chi sono io per non scrivere una puntata del podcast? Ed eccola, vale se avete bisogno di spostarvi per lavoro o se volete farvi una postazione mobile per diletto, l'ho pensata da mettere in uno zaino non troppo piccolo ma che contenga tutto quello che serve, scrivania e sedia escluse ovviamente. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003, sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Prima di iniziare scusate per la mancanza di settimana prossima, ho avuto un problema giusto domenica quando di solito registro e per forza di cose la puntata è dovuta saltare. Si parla di lavoro agile, orrido termine, dagli anni di pandemia, tra parentesi, sapete che sono già passati 4 anni dal primo lockdown e non uno e mezzo? Pazzesco eh? Questo ha sbloccato una serie di professioni che possono lavorare ovunque, a casa, al parco, in co-working, in un camper, al bar se non li cacciano via e in qualunque altro posto vi possa venire in mente. Basta che ci sia una sedia, un tavolo, una fonte di energia e connettività. Certe volte si può fare anche seduti al parco su una panchina se ci si adatta un po'. Adesso molte aziende stanno cercando di far tornare la gente in ufficio, credo per non perdere il capitale degli immobili acquisiti. Ma per molti lavori farlo in ufficio o altrove cambia davvero poco. La stessa cosa vale per chi lavora in proprio. La libertà di poter lavorare ovunque rende tutto molto più piacevole. Il problema sorge quando sei in un posto qualsiasi e ti accorgi che ti manca un pezzo o c'è un dettaglio che non ti permette di lavorare come vorresti. In questa puntata vi faccio un elenco di tutto quello che mi porterei io in un posto generico in modo da lavorare comodamente e con profitto. Per lavori molto specifici che comprendono dispositivi aggiuntivi alla dotazione che io definisco di base per un lavoro ad ufficio, ovviamente dovrete avere anche quelli che io non posso conoscere. Per poter lavorare serve la corrente e serve poter alimentare tutto quello che vi siete portati appresso, non solo il computer portatile. Avrete un telefono da ricaricare, magari un router, qualche altro dispositivo, una lampada, qualsiasi altra cosa. Serve una multipresa, detta comunemente ciabatta. Deve avere abbastanza posti per alimentare tutto quello che serve e dovete essere sicuri che la spina entri in ogni presa che potete trovare dove andate. Ho scoperto che se ha la spina asciuco e poi ci mettete un adattatore a tripolare italiana 16A, la potete collegare praticamente ovunque in Italia. Se trovate a muro una presa tripolare 10A, quelle piccole, è un problema. Per legge non potete mettere nessuna ciabatta. Lo strumento principale da portarsi appresso è il proprio computer portatile, qualunque esso sia. Io sono un po' manioco, ma non esco mai di casa se la batteria non è carica al 100%. Ovviamente dovete avere appresso il caricabatterie perché non tutti i computer garantiscono l'intera giornata in batteria e in certi casi averlo aiuta con la luminosità del display che in batteria può essere più bassa o nelle prestazioni del processore che in batteria potrebbe essere rallentato. Se andate a lavorare in un luogo pubblico è molto utile uno schermo per la privacy. È un foglio che mettete davanti al display e inibisce la vista del contenuto a chi sta accanto a voi. Si vede bene lo schermo se siete solo esattamente davanti, come quelli vecchi vecchissimi. Per esempio in treno il vostro vicino non vede che cosa state facendo, vede solo uno schermo nero. Toglie un po' di luminosità ma aumenta in modo significativo la vostra sicurezza. Se c'è spazio pensate a un mouse senza fili con la batteria ricaricabile, non con l'epidestilo. Lo so che gli ultimi trackpad fanno le magie ma il mouse, almeno in base a quello che dicono il mio braccio e il mio polso, affatica molto meno. Io lo uso e sono affeccionato a Logitech ormai da 30 anni. Il mercato propone un sacco di offerte diverse per ogni mano. Un dettaglio che non c'entra nulla, se vi interessa ho un Logitech vertical usato per mano destra da vendere e che non uso con la sua custodia. Se vi interessa mail a pdb-tucci.bo Parliamo di tastiere. Ormai tutti i pc portatili hanno delle ottime tastiere, ma ergonomicamente lavorare alla tastiera attaccata al display non è il massimo. Avere una tastiera anche piccola senza fili staccata potrebbe essere la svolta per migliorare la qualità della giornata lavorativa. Ce ne sono di milioni di tipi diversi, dalle meccaniche, da evitare in co-working, perché anche quelle che sono definite silenziose fanno rumore, a quelle sottili, a quelle davvero minimal con pochissimi tasti. Scegliete quella di vostro gusto e comodità. Io uso da anni una Logitech MX Key sottile, retroilluminata e molto silenziosa. E' una Nufai Air 65, meccanica, profilo basso, senza tastierino numerico, ma c'è solo con il layout US. Le cuffie sono fondamentali. Il primo motivo è che far sentire a tutto il vicinato quel che esce dalle vostre casse del pc non va bene, perché rompete le scatole a tutti e per motivi di riservatezza. Dovete avere un paio di cuffie per ascoltare e eventualmente fare call. Il secondo è che intorno, ovunque voi andiate, a meno che non siate in un posto tutto vostro ben isolato, c'è gente che parla e c'è rumore. Le cuffie vi salvano. Se le prendete con cancellazione attiva del rumore, si vive molto meglio. A mio parere, per una giornata di lavoro, sono molto meglio quelle grandi over-ear. Io uso un paio di Bose con cui mi trovo molto bene. Si abbinano sia al telefono che al computer contemporaneamente. Durano 10 ore in batteria e l'attenzione del rumore fa il suo mestiere e sono molto comode. Per un'attenzione top di gamma andate sulle Sony. Passiamo alla connessione a internet. Ormai per lavorare è indispensabile essere connessi per mille motivi. Cercate di immaginare una giornata senza internet. Il 90% dei lavori non potrebbe essere fatto. Questa cosa non vi mette un po' di paura? Ci sono due modi per collegarsi a internet se non siete a casa vostra. Con una vostra SIM dati o con una Wi-Fi messa a disposizione da qualcun altro. Partiamo dalla seconda. Ho parlato con amici esperti di sicurezza e la commissione che serva una VPN su access point pubblici non è vera. Vi lascio un link con un articolo molto interessante a riguardo. Non serve perché ormai è tutto in HTTPS. Quindi andate tranquilli. Non spendete soldi in maniera inutile. Dove lavoro? In Google non abbiamo VPN. Ci colleghiamo a qualunque rete pubblica o privata. Il nostro dispositivo aziendale tramite certificato si autentica sul proxy dell'infrastruttura corporate. E da quello accediamo a ogni risorsa aziendale. Se siamo tranquilli noi non vedo perché non dovreste esserlo voi senza una VPN. Al massimo potete prendere un servizio di DNS over HTTPS tipo NextDNS che vi mantiene anche un po' di sicurezza generica sulla vostra navigazione. Vi lascio comunque un link a un documento con tutta la spiegazione su come funziona il sistema Google. La VPN vi serve solo nel caso in cui siate in un paese e abbiate bisogno di uscire con un IP di un altro paese. Se la connessione invece la fate con una vostra sim dati dovete solo capire se vi bastano i dati del telefono ed è bene anche capire se usarlo sempre in tethering che lo riscalda e vi costringe a tenerlo sempre collegato al caricabatterie o se vale la pena di prendere una sim extra e un router dedicato. Nel secondo caso sono comode le saponette ma anche queste vanno a batteria. Sono solo wifi e hanno alcuni limiti su performance e dispositivi connessi. Oppure ci sono dei router che costano come le saponette hanno uno slot per la sim e si comportano esattamente come un router di casa. Forniscono la wifi e hanno delle porte ethernet. Vanno però alimentati con la presa elettrica. Se collegati a dispositivi con il cavo dovete avere ovviamente dei cavetti disponibili. Ce ne sono altri router come quelli di GL Inet che fanno anche il caffè. Si collegano alle wifi pubbliche, le replicano su una vostra wifi privata, hanno la VPN integrata per esempio verso casa vostra in modo che tutti i dispositivi connessi la usino in automatico. Alcuni hanno lo slot per la sim. Insomma sono davvero molto versatili ma più orientati per un pubblico un po' più nerd. Sempre parlando di VPN, se avete un NAS a casa e siete un po' smart è furbo avere una VPN dal PC portatile verso casa vostra in modo tale che possiate lavorare con i file che avete sul NAS ovunque voi siate. Così se vi rubano il PC o questo si rompe per un problema dato dalla mobilità non avete perso i vostri dati. In alternativa portatevi appresso un disco USB, meglio se SSD che se cade non si rompe, su cui fare backup dei lavori della giornata da tenere in una tasca diversa dalla borsa del portatile. A nessuno piace perdere una giornata di lavoro per un attimo di sfortuna. Ovviamente va anche bene un servizio cloud tipo Google Drive, Dropbox o simili. Chiusa la parte tecnica parliamo del sostentamento. L'acqua in giro costa cara. Va bene portarvi una delle mille borracce lavabili che si trovano in giro con l'acqua fresca del rubinetto. Magari quelle nuove, moderne, con i vari aromi. Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Ma ricordatevi che se bevete direttamente dal collo della borraccia poi questa va lavata col sapone e fatta asciugare bene. Non solo sciacquata, se no poi c'è proliferazione batterica, puzza, questa puzza non si toglie più, dovete buttarla via. Ne comprate un'altra e finisce che inquinate più che comprare una bottiglietta di plastica al giorno. E poi il caffè. Non si lavora se non c'è il caffè. Lo dico in generale, ovvio, che ognuno ha i suoi gusti e le sue necessità. Non in tutti i posti si trova il caffè e non sempre dove c'è è buono, soprattutto se sono macchinette automatiche. Avrei degli aneddoti da raccontare, ma non voglio far durare questa puntata mille ore. Per questo motivo mi esterrò. Torniamo al caffè. Esiste il modo di avere caffè fatto a modo con una macchinetta per l'espresso, portatile, a batteria, grande come una borraccia. Funziona a cialde o con la polvere più ecologica, ma in questo caso in giro un po' più scomoda. La svolta definitiva. Ho parlato di mille cose e accessori. Tutti i link li trovate in descrizione, nelle note del podcast, così non dovete riascoltarlo e prendervi gli appunti. E come al solito quelli su Amazon sono sponsorizzati. Se comprate a partire da quei link a me arriva una piccola percentuale, per la quale, come sempre, vi ringrazio moltissimo. Grazie mille. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito pillole di bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Questo podcast, da sempre, si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi ascoltatori fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sessione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi in questo progetto. Gli abbonati di queste due settimane sono Carlo, Valerio, Giorgio, Edoardo, Giovanni e Giorgio, un altro. Le donazioni spot sono di Davide e di Tommaso e il Value for Value è di Paolo, Nicola Gabriele e Federico. Oltre a donare, usando Satispay, Paypal o il Value for Value, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o iWeb. Questo ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. E tutti quelli che si sono abbonati passando da me poi mi hanno detto grazie. E non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Ho parlato di hardware per tutta la puntata nel tip, non mi resta che parlare di software. E per quando si è in giro mi pare utile un programma per gestire la batteria. Io uso molto il Mac e vi posso considerare un programma per averne cura. Si chiama Aldente come la giusta cottura della pasta ed esce in due versioni. Quella gratis e quella a pagamento. Quella gratis permette di fare una cosa che Mac OS fa ma in automatico. Limita la carica della batteria a quello che volete voi. Con i nuovi Mac Arm la batteria dura uno sfacero di ore. Con il mio Air M1 con decine di schede Chrome aperte, Wi-Fi, musica e il display al 50% della luminosità. Arrivo abbondantemente a 10% con la batteria carica. Con i Pro 14 M1 del lavoro sono in batteria tutto il giorno in sala e arrivo a fine giornata con ancora il 40%. Limitare la batteria all'80% ne aumenta la vita e non incide in modo pesante sul lavoro quotidiano. Ovviamente se sapete che dovete fare una giornata lunga portate il limite al 100% e lui carica fino al 100%. Se prendete la versione a pagamento ci sono una serie di tool molto interessanti che si possono fare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle mille cose dette sono nelle note che trovate sulla vostra app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento tra due lunedì, che il prossimo è Pasquetta, e lunedì festivi il podcast non esce. Il podcast è disponibile su Feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!